buongiorno a tutti voi e bentornati in questo video vi presentiamo un volume dedicato agli esercizi di elettrotecnica con simulazioni software l'autore è danilo tommassini l'editore libri sandit il costo di questo volume è 11 euro 90 vediamo alcuni contenuti il software di simulazione multisim esercizi in corrente continua esercizi sulle reti elettriche in regime stazionario esercizi su magnetismo ed elettromagnetismo esercizi sulla corrente alternata risonanza e sistemi trifase speriamo di essere stati utili e vi aspettiamo con un prossimo nostro video grazie a presto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti